I comuni dell'Alta Valle del Tevere potranno infatti beneficiare di un finanziamento della regione toscana da 1,8 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza degli edifici privati presenti nel territorio. La Giunta regionale delibera ad indicare come prioritari per il finanziamento e gli interventi sui sette comuni Valtiberini, Anghiari, Bagliate d'Alda, Caprese, Michelangelo, Monterchi, Pieve, Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino, si legge nel verbale della seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre scorso. Classificata come zona 2 la seconda più pericolosa nella scala di valutazione nazionale del rischio sismico, la Valtiberina rientra di fatto tra le aree a maggior priorità di riqualificazione, avendo diritto ad una riserva di fondi fino al 20% degli 8 milioni e 900 mila euro stanziati dalla regione con il documento operativo di prevenzione sismica. Da Firenze un importante segnale per la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, la prevenzione sismica rappresenta da sempre una tematica centrale per la Valle del Tevere, oggi più che mai bisognosa di tutela.